Ciao e benvenuto in questo nuovo video in cui andremo a vedere la segnaletica luminosa, ovvero tutte quelle regole e i comportamenti che il conducente deve tenere quando si trova davanti ad un semaforo. Prima di iniziare, se ancora non l'hai fatto, iscriviti su questo canale cliccando il bottone rosso su questa pagina e attiva la campanellina. Ma iniziamo la lezione! Il primo caso che andiamo a vedere è quello del semaforo veicolare. Il semaforo veicolare è un semaforo, quindi una segnaletica luminosa, che vale per tutti i veicoli, sia quelli a motore che quelli senza motore. Potresti trovare le luci del semaforo disposte in verticale, come stai vedendo in questo slide, oppure disposti in orizzontale. Ti devi ricordare anche che la luce rossa potrebbe essere leggermente più grande delle altre. Andiamo a vedere quali comportamenti deve tenere il conducente a seconda della luce che si accende nel semaforo. Nel caso in cui ci sia la luce verde accesa del semaforo, il conducente può procedere sia in direzione destra, sia in direzione sinistra e oppure dritto. Deve però stare attenta ad alcune cose. Se infatti svolta a destra dovrà stare attento all'attraversamento pedonale perché anche i pedoni avranno il verde. Se invece procede dritto dovrà semplicemente attraversare l'incrocio e non dovrà dare precedenza ad alcun pedone oppure veicolo. Se invece svolta verso sinistra ti devi ricordare che devi dare la precedenza ai veicoli che provengono di fronte e dovrai dare la precedenza anche ai pedoni perché anch'essi hanno il semaforo verde. Nel caso in cui l'incrocio sia occupato da altri veicoli ma il semaforo sia comunque verde non ti è consentito impegnare l'incrocio. Per quale motivo? Perché se ti posizionassi in questo punto e il semaforo diventasse ad un certo punto giallo e poi rosso ti troveresti in mezzo all'incrocio e saresti di intralcio per gli altri veicoli. Allo stesso modo se ti avvicini ad un incrocio in cui il semaforo è verde già da parecchio tempo potresti pensare che tra poco diventerà giallo e quindi inizia a rallentare la tua andatura. Nel caso invece in cui la luce sia gialla ci sono semplicemente due situazioni. Nel caso in cui tu riesca a fermarti in sicurezza come ad esempio il veicolo giallo avrai l'obbligo di fermarti prima dell'incrocio. Nel caso invece in cui tu abbia già impegnato l'incrocio oppure non riesca a fermarti in sicurezza chiaramente dovrai sgomberare l'incrocio. Se invece il semaforo è chiaramente di colore rosso non ti è consentito attraversare l'incrocio e ti dovrai posizionare cioè fermarti prima di questa striscia che si chiama striscia trasversale di arresto. Andiamo a vedere il semaforo veicolare di corsia. Una volta che hai capito le regole del semaforo veicolare le stesse regole vengono applicate a tutti gli altri semafori quindi questo semaforo sarà un semaforo veicolare di corsia cioè riferito a determinate corsie. Infatti vedi che sono presenti delle frecce che ti ricordano proprio che a seconda della freccia che si accende ti sarà consentito procedere in quella direzione. Come puoi vedere in questa immagine ad esempio questo semaforo è ancora rosso mentre questo è già verde quindi devi stare attento a quale freccia si illumina e chiaramente procedere in quella direzione. Quando la freccia sarà verde, quando la freccia invece sarà gialla dovrai seguire due comportamenti quindi se riesci a fermarti prima dell'incrocio avrai l'obbligo di fermarti altrimenti dovrai procedere. Se invece fosse rossa chiaramente non ti è consentito impegnare l'incrocio. Andiamo a vedere in quale caso la luce potrebbe essere gialla lampeggiante. Solitamente il semaforo ha luce gialla lampeggiante quando è spento oppure non funziona quindi dovesse essere guasto. In questo caso ti è consentito impegnare l'incrocio dando la precedenza ai veicoli che ti arrivano dalla tua destra quindi comunque procedere molto molto lentamente. Per quanto riguarda il semaforo per i pedoni scusami non perderei tanto tempo. Quando si accende la luce verde chiaramente ti sarà consentito attraversare e precedere sull'attraversamento pedonale. Con la luce rossa chiaramente no. Con la luce gialla invece dovrai accelerare l'andatura oppure aspettare che diventi rosso e poi successivamente di nuovo verde. Stesso identico ragionamento per il semaforo per i velocipedi. Questo semaforo non è solo per le biciclette a due ruote. Ti ricordo che i velocipedi sono veicoli mossi dalla azione delle gambe del nostro conducente che possono avere due, tre, quattro ruote oppure anche avere un motore elettrico. Stiamo parlando delle biciclette elettriche che hanno una potenza massima di 0,25 kilowatt. Questo è un piccolo ripassino. Con la luce verde ti sarà consentito di attraversare l'incrocio, con la luce rossa no e con la luce gialla. Ormai dovresti aver capito cosa puoi fare e cosa non puoi fare. Per quanto riguarda invece questo semaforo che è un pochettino più raro, è un semaforo per veicoli di trasporto pubblico. Cioè stiamo parlando di veicoli che svolgono servizio pubblico, ad esempio un autobus, un filobus, un tram, un taxi. La disposizione del luce è la stessa, quindi rosso, giallo oppure verde. E questa cosa la riconosco sempre dalla lettura che ti ho consigliato dal basso verso l'alto. Guardiamo la luce verde. Tu procedi dal basso verso l'alto e stai impegnando proprio la riga bianca, quindi ti sarà consentito attraversare l'incrocio. Spostiamoci in alto e andiamo dal basso verso l'alto e ci troviamo sbarrati dalla barra bianca, quindi non sarà possibile attraversare l'incrocio e infatti la luce è rossa. Con il triangolo giallo invece stiamo semplicemente guardando la luce gialla del semaforo, quindi se possiamo attraversare l'incrocio in sicurezza va bene, se invece non riusciamo a fermarci dobbiamo attraversare. Andiamo a vedere ancora il semaforo percorsiere versibili sul quale ci sono leggermente più errori statisticamente parlando ed è un semaforo che vale per tutti i veicoli, quindi sia quelli a motore sia quelli senza motore. Infatti c'è una domanda che parla di biciclette, mi raccomando ricordatelo bene. Il semaforo intanto che cosa vuol dire corsie reversibili? Reversibili vuol dire che la circolazione all'interno di quella determinata corsia può cambiare, cioè quella corsia si può percorrere per qualche minuto in un senso, dopo qualche minuto si sposta e diventa, si sposta dall'altro senso. Allora, cosa significano le luci? Con le luci verdi, quindi con le frecce verdi, ti vanno ad indicare le corsie che puoi occupare, con la luce gialla lampeggiante ti vanno ad indicare le corsie verso cui ti devi spostare, con la X rossa ti vanno ad indicare la corsia che non puoi assolutamente impegnare. Il semaforo per corsie reversibili chiaramente lo troverai su carreggiate o comunque strade a doppio senso di circolazione. Ti ripeto, vale anche per le biciclette. L'ultimo semaforo che andiamo a vedere è quello di onda verde. Probabilmente se vivi in una grande città lo avrai già visto, altrimenti se vivi in una piccola cittadina questo semaforo praticamente è inesistente. È composto da alcune velocità e si illumina una sola delle tre velocità. Il semaforo si trova su dei viali dove ci sono altri semafori temporizzati. Cosa significa temporizzati? Temporizzati significa che hanno il verde tutti insieme per un determinato periodo di tempo. Il semaforo di onda verde va ad illuminare, quindi va ad illuminare, guardiamo in questo caso, 40 kmh, va ad illuminarti la velocità, che devi mantenere per trovare tutti i semafori successivi verdi. Chiaramente è un consiglio di mantenere quella velocità. Puoi procedere ad una velocità superiore o ad una velocità inferiore. Cosa succederà? Non troverai tutti i semafori verdi. L'ultimissimo semaforo che guardiamo invece è questo. Il semaforo è composto da tre casi differenti. Nei tuoi quiz e il giorno dell'esame lo troverai tutto insieme, ma la domanda si riferisce alla parte A, alla parte B o alla parte C. Il primo semaforo luce gialla lampeggiante lo potresti trovare prima di una situazione pericolosa. Ad esempio, ti stai avvicinando ad un incrocio un po' pericoloso, la luce gialla lampeggiante attira la tua attenzione ti fa moderare la velocità. Per quanto riguarda invece quello con il pedone, quindi il tipo B, il pedone lampeggiante significa che stiamo attraversando un incrocio regolato da semaforo veicolare. Ad esempio, come nel caso numero 1, potevi girare a destra. Il semaforo col pedone giallo lampeggiante ti ricorda che nella svolta a destra ci sono i pedoni sulle strisce pedonali che hanno la precedenza e quindi devi fare attenzione. Stesso identico ragionamento se al posto di un attraversamento pedonale ci fosse un attraversamento ciclabile. L'ultimissimo davvero è questo, luci rosse lampeggianti che abbiamo già visto nei passaggi a livello senza le barriere, nei passaggi a livello con le semibarriere oppure nel ponte mobile. Sono due luci rosse lampeggianti alternativamente, quindi prima una e poi l'altra. Quando si illuminano, quando si accendono, devi stare molto attento perché o si sta alzando il ponte mobile oppure sta transitando il treno. Con questo ultimo semaforo abbiamo finito la prima parte riguardante la segnalettica luminosa, quindi i semafori abbiamo visti tutti. Nel prossimo video andremo a vedere le posizioni del vigile e il riconoscimento dell'agente del traffico. Se ti è piaciuto questo video e ti è risultato utile fammelo sapere attraverso un commento, lascia un mi piace sotto questo video e iscriviti sul mio canale. Ciao!